Anticipazioni Endless Love. Emir resta sbalordito nel scoprire che Ozan ha appiccato il fuoco alla barca di Salih dopo averlo ripreso per il suo impeto irrazionale. L'imprenditore non può che ammirare la fermezza di suo cognato nel perseguire i suoi scopi, pur nell'estremismo delle azioni. Questo atto, in un certo senso, G.I. merita una certa considerazione. Nel frattempo, Nian, da lontano, osserva la discussione tra Emir e Ozan, iniziando a sospettare che l'imprenditore stia manovrando suo fratello. Determinata a affrontarlo, Nian si confronta con Ozan, il quale goffamente cerca di nascondere una bruciatura sulla mano. In seguito la giovane si imbatte in Salih, il quale le svela la verità sull'incendio. A quel punto, Nian capisce che Ozan è il colpevole materiale dell'atto incendiario. Salih consiglia a Kemal di dimenticare Nian, nutrendo dubbi sulla sua sincerità. Tuttavia, Kemal decide di credere alla parola di Nian quando lei G.I. confida di essere stata costretta a sposare Emir contro la sua volontà. Questa rivelazione suscita in Kemal un profondo senso di compassione e rispetto per Nian, spingendolo a sostenerla. Nel frattempo, Emir mostra un lato oscuro della sua personalità, minacciando Banu e costringendola ad abortire, per evitare gravi conseguenze. Questo gesto crudele mette in evidenza la sua natura manipolatrice e spietata, alimentando il senso di disagio e paura che lo circonda. Zainep, dall'altra parte, si trova a fronteggiare una serie di conflitti personali. Si scontra con Salih quando quest'ultimo, senza consultarla, decide di chiedere la sua mano alla famiglia. Inoltre, Zainep deve affrontare continuamente l'insistenza di Ozan, che la perseguita nonostante i suoi chiari rifiuti e i suoi tentativi di allontanarlo. Nel frattempo, Nian nutre forti sospetti sul coinvolgimento di Emir nell'incendio, sospettando che dietro a questo evento, Qi sia la mano dell'imprenditore, alimentando il sospetto di una sua malvagia strategia per danneggiare i suoi rivali. Successivamente, Kemal firma dei documenti preparati dalla presunta società di consulenza di Rashid, ma scopre in seguito che questa società non esiste, mettendosi così in pericolo di finire in prigione per aver firmato documenti illegali. Convinto che dietro Qi sia l'inganno di Emir, Kemal, con l'aiuto di Salih, decide di affrontare Rashid per costringerlo a confessare come lui ed Emir lo abbiano incastrato, determinato a scoprire la verità e proteggere se stesso e la sua reputazione da qualsiasi inganno orchestrato dai suoi nemici. Nel frattempo, Banu affronta Nian, esigendo che lasci suo marito affinché possano finalmente stare insieme. Dopo aver rifiutato l'aiuto economico di Feime, Tariq si sente in dovere di proteggere l'onore della famiglia. Origlia una conversazione telefonica tra Zainab e Ozan, preoccupato per il coinvolgimento di sua sorella in una situazione potenzialmente pericolosa. Nonostante Nian abbia vietato ogni contatto, e nonostante i continui rifiuti di Zainab, Ozan continua a perseguitarla con insistenza indesiderata. Anche quando Zainab ribadisce il suo totale disinteresse nei suoi confronti, Ozan persiste nelle sue avance, costringendo Tariq ad intervenire per proteggere l'integrità della sua famiglia. Furioso per il fatto che Zainab stia ancora parlando con Ozan, nonostante le sue chiare intenzioni, il fratello maggiore decide di infliggere una punizione. Tariq comunica a Zainab che d'ora in avanti potrà uscire solo se lui l'accompagnerà, cercando così di limitare le sue interazioni con Ozan e di garantirne la sicurezza. Successivamente, Emir contatta Tariq per offrirgli un aiuto finanziario inaspettato, proponendo di fornirgli il denaro necessario per aprire il suo nuovo negozio. Accettando l'offerta, il primogenito di Hussein si prepara a sfruttare questa inattesa opportunità per migliorare la situazione economica della famiglia e per dimostrare le sue capacità imprenditoriali al padre. Kemal, sentendosi costretto dalle circostanze che si susseguono, decide di costringere Nian a confessare la verità. Con le spalle al muro, Nian ammette di aver sposato Emir solo per proteggere Ozan, ma aggiunge che non può rivelare altro. L'ingegnere, sollevato per la confessione ma preoccupato per le implicazioni, sente il bisogno di condividere i suoi pensieri con qualcuno e contatta Salì e Leila per parlare della situazione in un momento di vulnerabilità e incertezza. Kemal, sentendosi travolto dalle vicende, cerca conforto e consiglio tra gli amici più fidati, desideroso di affrontare la situazione con saggezza e fermezza. In un successivo incontro, Nian e Banu si ritrovano. Banu, in possesso delle foto della fatidica sera dell'assassinio, rivela a Nian una verità sconvolgente. Non è stato Ozan ad uccidere, ma Emir, un fulmine nella mente di Nian che la scuote profondamente e decide di affrontare la famiglia. A casa, durante una discussione con Hondere e Vildan, Nian rivela che Banu è al corrente dell'omicidio. L'atmosfera si fa tesa quando emergono ulteriori dettagli. C'è qualcuno che ricatta Emir da anni, possedendo filmati cruciali della sera incriminata. La rivelazione aggiunge un ulteriore strato di complessità, gettando ombre oscure sui fatti. Nel frattempo, Emir insinua sottilmente ad Ozan che Kemal sia tornato ad Istanbul con oscuri intenti verso Nian, mettendo così a rischio anche la sicurezza della famiglia. Ozan, infuriato, si scontra con la sorella, accusandola di mettere tutti in pericolo per i suoi legami con l'ex fidanzato. La tensione aumenta e il conflitto si insinua tra le mura domestiche mentre Nian cerca di metabolizzare la scioccante verità. In una svolta inattesa, la notizia si diffonde in casa che Zainep desidera fidanzarsi con Salih, suscitando entusiasmo e felicità tra i membri della famiglia. Tuttavia, dietro la superficie, si cela un segreto. Zainep ha accettato l'invito di Emir, che intende conquistarla portandola in elicottero a un concerto. Questa rivelazione segreta getta un'ombra di suspense e incertezza, mentre Zainep naviga tra sentimenti contrastanti e decisioni che potrebbero segnare il suo destino. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il Continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!